salve qui il vostro sante già ormai tutto sembra voler dire nell'attuale politica italiana in giù c'è tu che in giù c'è io vai avanti tu ad inciucciare cretino che poi anch'io come un cretino in giù c'erò a che si riducono i nostri emeriti politici a degli zoticoni che non aspettano altro che scattare a fare di giù c'è poi io non ho capito che manca e questo in giù c'è l'ha inventato da lì ma infatti lui non si è mai capito che politica facesse era di sinistra era comunista e lui si è inventato questo dell'inciucio che già l'inciucio nel nome è un inciucio ecco quindi qui il vostro capitan sentenza che tratta di commentarne le cose della politica e invece ne rimane incucciato perché non capisco appunto tanto per dire l'inciucio cosa sia poi se non si sa che cos'è l'inciucio è un inciucio parlare di giù c'è ma perché caro marco marco travaglio proponi tu come hai già proposto altre cose che si legalizzi l'inciucio fare un inciucio costituzionale e un inciucio repubblicano un inciucio dei comuni un inciucio delle province che ancora non sono spariti però ecco vogliono anzi vogliono fare sparire le province non so come e aumenterebbero le regioni invece dovevano sparire le regioni e rimanere le province che c'erano allora non sanno se fare sparire le regioni fare delle regioni comunali regioni provinciali dovrebbero aumentare le province frazionarsi diminuire sparire tutto hanno parlato per me si rompendoci coglioni e come sparivano le regioni poi sono passati a dire no forse sono le province che spariscono o si accorpano allora diminuiamo le province e facciamo sparire le regioni beh di fatto le regioni sono aumentate le province sono quelle di sempre è un inciucio è un inciucio provinciale comunale e regionale hanno così tanto spesso nello studiare se fare ridurre o sparire le regioni poiché fare delle autonomie comunali delle autonomie provinciali e delle autonomie regionali rimangono le autonomie senza le province comuni regioni mistero della fede ma chi c'ha fede oggi in politica i politici no perché si contestano sempre che casino allora dicevo alla fine hanno spesso tanti soldi per dei progetti di legge ma poi alla fine e non si è fatto nulla quindi quando si farà qualcosa si spenderà ancora di più perché quello che si è fatto prima non serve più bisogna fare altri altre informazioni altre cose ecco questo ci siede a commentare la politica che diviene un magore una tristezza e poi è meglio che non continuare a ordinare però è così quando si decideranno a fare qualcos'altro io oggi ho visto il telegiornale non ci ho capito niente frappe grillo movimento 5 stelle casaleggio perlusconi adesso lui dovrebbe andare agli arresti domiciliari siccome ha presso la residenza un geriatrico allora invece di lavorare come infermieri per i vecchietti adesso lui si trasforma in un vecchietto che deve essere assistito nel suo domicilio cioè nel geriatrico quindi sconterà la pena nel geriatrico dove viene entrato per scontare un'altra pena quella di assistere i pazienti adesso invece lui diventerà un paziente assistito hai capito insomma niente galera e mi interesti in casa sua adesso sta in uno spa a fare gli arresti e poi interdizione della politica finché rimane in geriatrico poi si scopre che rimarrà un anno interdizione non sarà permanente quindi pensa che punizione altro che colpa è il castigo di dostoevsky colpa è indulto all'italiana perché l'espiazione significherebbe pagare la colpa invece in italia nessuno è spia tutti sono spia e non sono figli di maria poi l'italia che non finisce mai di far dire se sono pensi dei buoni negozi nel passato e adesso e manco la fanno fallire in pace meno male che nessuno si è potuto aggiudicare la sconfitta nel mondiale perché se avesse vinto la nazionale italiana tutti a quest'ora ne sarebbero stati gli artifici monti tremonti berlusconi grido casaleggio bertinotti bersagli e invece così la sconfitta è passata liscia e nessuno si è afferrata ad essa d'altra parte nessun politico arroga la paternità delle sconfitte politiche italiane anche quindi roba da pazzi io non so come interpretare questa politica sono di un'altra epoca nella quale la politica era sempre una merda ma almeno c'aveva la logica perché ci avevano abituato a pensare così adesso che siamo totalmente scettici magari come prima pensiamo che non si può andare avanti così sono più di 50 anni porca voglia che ci sono questi stessi politici che si riciclano padri figli e quando vengono di nuovi fanno lo stesso basta letteci un po di respiro chiamiamo politici dal giappone dal canale dall'australia dalla germania forse qualcosa di buono fanno forse no forse italia è indecuperabile intanto intanto dicevo popey crolla a pezzi ed ercolano no perché a pompey ci è intervenuto lo stato italiano a ercolano invece ci intervengono fondazioni straniere poi ho visto in un canale di documentari nordamericano come ci sia la mafia dei gladiatori fuori dal vaticano in ottaviano ma non solo anche una mafia delle guide turistiche che fregano soldi e turisti e dei venditori ambulanti che fregano i soldi ai turisti è strano perché dicevano che forse vi era coinvolta la polizia italiana e anche istituzioni da dentro del museo stesso di tutte quelle robe là che stanno territorio straniero non so se mi capite e quindi che fa papà vergoglio metterà ordine a tutta quella corruzione sono in gioco centinaia di milioni di dollari che vengono capati i turisti non solo del lato di qua dal lato romano ma anche del lato di là dal di là del ponte non solo se mi stia quindi tutto questo triste addirittura fregano i turisti a roma che figura di merda facciamo davanti al mondo non perdete a quel documentario sugli staff sugli quelli che fanno la frode turisti a roma è spettacolare il documentario tristissimo da vederlo come italiano però è così c'è la macchia dei venditori ambulanti di souvenir di cibo ai gladiatori che si sono accorpati e diceva questo documentario nord americano che dovevano avere delle connevenze tanto con lo stato italiano con i funzionari italiani come con i funzionari dello stato confinante con roma e dei suoi musei perché vendono dei biglietti per saltare la fila di vendono più cari poi non c'è nessuna fila nel museo è tristissimo beh vi lascio fatto questo breve video perché ho avuto uno spunto e ieri ho fatto uno più largo ma adesso mi andava di spuntanare un po e quindi la vostra sapeggian tantissimi saluti mi raccomando a presto ciao e non lasciate di seguirmi oggi ho avuto 300 visioni nel canale adesso che sono le 55 mezza si sta facendo notte forse sono le 4 4 5 5 4 17 30 massimo fra poco fra mezz'ora sarà notte perché anche se inverno diventa scuro sempre più tardi stiamo andando incontro alla primavera che sarà fra circa due mesi beh allora vi lascio ciao e non lasciate di comunicarvi con me in instagram come stante in cian e poi nell'altro canale che mi sono scordato come si chiama però ve l'ho detto nel video precedente come si chiama beh vi lascio ciao perché un programma tipo volki toki che funzionano ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti